Salve a tutti qui Antonio Cianci, il raccata film per voi e ora si parla di Io spero vivamente che questo video sia alla portata di tutti perché io ho aperto il canale anche per parlare di queste cose un autore che mi ha colpito nel profondo è stato luigi chiarini ho recuperato alcuni suoi testi e mi sono ritrovato sia con i suoi gusti cinematografici sia con il suo modo di vedere il cinema non più come arte ma come sistema, meccanismo andare controcorrente era nel suo stile però i suoi ragionamenti colpivano le masse lui nacque nel 1900 e morì a 75 anni, fu un affermatissimo docente universitario nonché sceneggiatore di un film di Vittorio De Sica, Stazione Termini e arrivare a questi livelli non è cosa da poco ve lo assicuro ma arriviamo all'argomento succoso del video è una tesi, una sua tesi che ha voluto sviscerare il cinema inteso come architettura impiegati artisti componenti di una macchina produttiva che hanno come fine ultimo quello di formare un comparto narrativo solido da qui in poi cercherò di essere blando nel senso che scandirò bene le parole perché voglio che voi capiate questo discorso la realizzazione di un film presenta complesse fasi paragonabili appunto a quelle dell'architettura e per conoscere il cinema è necessario scomporre le scene e rilevare i problemi tecnici per la realizzazione dell'opera un processo che nulla a che fare con la frettolosa visione ed insieme tipica dei produttori hollywoodiani. L'architettura rappresenta in un certo qual modo lo spirito dei materiali impiegati come il marmo, il ferro, il cemento e solo i più grandi artisti sono riusciti a trattare con cura ognuno di questi materiali per esprimere tutto il loro potenziale in autentici capolavori. Qui invece si parla di macchina da presa una camera che molti ritengono sia il trionfo della tecnica sulla personalità artistica ma non potendovi essere arte senza coscienza e conoscenza dei mezzi tecnici impiegati non saranno mai intenditori di cinema o cinefili coloro che non conoscono lo spirito della camera o le potenzialità che possiamo ricavarci da questa. Una delle fasi più importanti per determinare la riuscita del film è il trattamento come l'opera deve essere presentato al pubblico sostanzialmente. Il trattamento lo possiamo vedere come le fondamenta di un palazzo. Se le fondamenta sono buone la struttura anche se ha delle parti mancanti o da ritoccare rimarrà stabile rimarrà sempre in piedi ma se le fondamenta sono cattive non curate l'edificio avrà vita breve e sarà destinato a crollare anche se all'ultimo vorremmo rivoluzionare tutta la pianta per migliorarne l'aspetto visivo. Il trattamento ha un'importanza assai maggiore della sceneggiatura. La sola pianta del film divisa in passaggi di storia non è sufficientemente in grado di sostenere tutta l'economia del film. Nel trattamento viene definita la trama il congegno della vicenda e la trama nel film costituisce l'ossatura. In secondo luogo si stabiliscono gli spazi e i tempi cinematografici ovvero come impostare le inquadrature e catturare i dettagli della trama anche senza aver bisogno di un copione inizialmente. E da qui come terzo passaggio abbiamo la ricerca del materiale plastico, le persone e gli oggetti di scena, gli elementi apte ad esprimere il racconto e i sentimenti che muovono le azioni dei personaggi. E' sempre meglio analizzare le diverse fasi dell'elaborazione filmica appena citate dal punto di vista della regia. Si mette da parte l'animo critico e si diventa uomo di mestiere. Il palazzo che si sta costruendo deve contenere come minimo un'entrata accattivante. La trama nel suo svolgimento deve interessare il pubblico per poi travolgerlo nei diversi piani o in trecci narrativi. Da qui il percorso si fa più tortuoso perché una volta che hai catturato l'attenzione del pubblico tutte le persone in sala vogliono giustamente sapere cosa troveranno in cima alla costruzione dell'edificio. Il pubblico non ama il film gratuito, vuole che sia una sfida, una continua scalata verso l'alto, vuole che esso gli dica qualche cosa a cui si stupirà o reagirà distinto, non importa. Si può effettivamente interagire col film dal momento in cui riusciamo a scorgere due vie parallele percorribili. Possiamo scegliere se seguire il destino dei protagonisti oppure non affidarci totalmente a loro per esplorare a fondo il palazzo, come è stato ideato, come i tecnici e gli addetti nel settore hanno trattato il materiale di partenza per erigere tale struttura. Insomma, si stabilisce un rapporto di intimità fra ideatore, costruttore e osservatore, che siamo noi. Percepire il film come un lavoro talmente compatto che anche le più piccole imperfezioni non sono riuscite ad alterare la sua essenza. Il film deve anche possedere una caratteristica fondamentale, l'unità di tempo immutabile. Il film conosce solo un tempo, il presente, quello in cui si svolge l'azione, sia del personaggio intento a portare avanti la storia, sia del nostro scrutare attentamente quello che viene filmato. Lo stiamo facendo proprio in quel momento. Il racconto è in continuazione il presente dell'immagine accesa su schermo. È un racconto agito, non raccontato. Tutto quanto è narrato fa parte dell'immagine e non si può, non si deve cadere nell'impostazione banale o generica. Le chiavi interpretative, le incognite, i caratteri dei personaggi devono essere tradotti con il dovuto apporto registico, per fare in modo che lo spettatore riesca facilmente ad entrare nell'ottica del creatore, oltre che rimanere affascinato dalla creazione. E veniamo alla parte più tosta. Il tetto collaudato e testato ripetute volte per non lasciarci al freddo e al gelo. Insomma, il finale, l'elemento ultimo che comunica con le fondamenta del film, le due estremità unite dal percorso che noi abbiamo tracciato nel mezzo. Qui la cima deve essere conclusa senza possibilità di residui. Il tetto deve mostrarsi intatto proprio come il finale non deve apparire debole, cedevole. Tutte le azioni che abbiamo compiuto noi e gli interpreti nel film concorrono a questa conclusione. Giungiamo tutti nella stessa destinazione e non si stimola l'interesse del pubblico per poi lasciarlo in asso o nel vago. Rispetto alla tensione creata durante la presentazione del progetto, il finale è come la catarsi liberatrice. Arrivato all'ultimo piano sarebbe l'ideale imbattersi in una cupola con vetrate trasparenti che ti danno l'idea di librare nell'aria, però devono essere progettate con tutti gli accorgimenti del caso per non farti volare giù. La conclusione logica, umana, calzante è la sola che lascia soddisfatto lo spettatore. Il banalissimo lieto fine invece tende ad essere il modo più sbrigativo per sminuire completamente il fascino di ciò che si è visto per tutto questo tempo. In conclusione, stabilito il principio e il finale, il racconto deve necessariamente scorrere dall'uno all'altro con soluzione di continuità, scortato tu da addetti ai lavori, da impiegati che hanno riposto fede al progetto, senza spiacevoli equivoci né sezioni di piani con su scritto lavoro in corso. Bene, io ho cercato di essere il meno prolisso possibile, spero che questa trade union fra il mio discorso e il modo di illustrare il cinema del signor Chiarini vi abbia intrattenuto. Qui Antonio Cianci il raccattafilm ha finito, vi è piaciuto il video? Vi siete ritrovati con il mio modo di analizzare un film? Un ringraziamento in particolare a chi si è iscritto attivamente a chi mi segue e chi interviene nei commenti. Un saluto a tutti, ciao, alla prossima!